Il Comune investa in un percorso economico che permetta alla città vecchia di Taranto di poter accogliere attività artigianali in genere e anche di artigianato artistico e dunque nuove realtà economiche che non siano legate solo al mondo della ristorazione. È la proposta avanzata da Casa Artigiani Taranto al sindaco Rinaldo Melucci e all'assessore allo sviluppo economico Fabrizio Manzulli con diversi obiettivi, rilanciare il comparto dell'artigianato, incentivare la nascita di nuove start-up e anche la riqualificazione dell'isola madre stessa. Oltre a specifiche agevolazioni e sostegni economici si preveda anche alla mappatura degli immobili destinabili agli artigiani. Abbiamo richiesto al Comune di Taranto un tavolo permanente per l'isola madre. L'artigianato, secondo il nostro pensiero, è il futuro sia economico, sia sociale, sia turistico della città vecchia di Taranto. Così come attuato da altri comuni di altre regioni, ma anche dalla nostra stessa regione, sono stati previsti degli incentivi e delle agevolazioni per le nuove imprese artigiane. Così riteniamo che Taranto debba essere fatta la stessa cosa. Già in passato il Consiglio Comunale aveva espresso con delibera degli aiuti che poi non sono stati mai attuati e quindi c'è un forte ritardo. Dagli studi che abbiamo fatto sono pochissime le imprese artigiane che invece potrebbero dare ai flussi turistici che stanno arrivando nel borgo antico di Taranto una attrattività maggiore, per fare un esempio, tutto il settore dell'artigianato artistico, dell'artigianato sensoriale, che secondo noi può dare rilancio e sviluppo a Taranto. Grazie! Grazie! Grazie.